Allora, qui siamo unica alla scuola di tutti, però per i candidati esterni. Curriculum dello studente. Hai tempo fino al termine delle lezioni per aggiornare il tuo e-portfolio. Il curriculum dello studente sintetizza per i candidati esterni e certifica tutto il percorso scolastico e destrascolastico di studentesse e studenti. Raccolto nel tempo attraverso lo strumento digitale dell'e-portfolio. Clicca per visitare la pagina su unica. Quando e cosa fare? Dal 9 maggio. A partire dal 9 maggio 2024 il candidato esterno accede al proprio e-portfolio visualizzando la sezione dedicata al curriculum dello studente, dove può compilare le sezioni di propria competenza. In particolare all'interno delle sezioni istruzione e formazione inserisce informazioni relativi a PCTO, perché oggettivamente deve inserire lui, mentre per gli studenti frequentanti è la segreteria. Apprendistato, mobilità studentesca, altri titoli di studio. Il candidato esterno accede alla sezione sviluppo delle competenze dell'e-portfolio, inserisce le informazioni riguardanti le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche eseguite nel corso dell'anno. Una volta inserite le informazioni relative al percorso di studi del candidato esterno, queste risulteranno visibili sia all'interno dell'e-portfolio che nella preview del curriculum dello studente. Questo per i candidati esterni, mentre per le segreterie scolastiche, prima dell'avviso all'esame di Stato, le segreterie effettuano un consolidamento su SIDIP delle informazioni precompilate relative alle prime due parti del curriculum, istruzione, formazione e certificazione, consentendo alle commissioni d'esame di accedere al curriculum dello studente con tutte le sezioni già compilate. Il consolidamento preesame deve essere effettuato dopo la presentazione dei candidati propedeutica all'esame di Stato e prima dell'insediamento delle commissioni d'esame. Le segreterie al termine dell'esame di Stato e previa disponibilità del numero identificativo del diploma consolidano definitivamente il curriculum dello studente, includendo le informazioni relative all'esito ottenuto. Il curriculum consolidato viene quindi reso disponibile agli studenti all'interno dell'e-portfolio, sezione documenta senza richiedere ulteriori azioni da parte delle segreterie scolastiche. Firma e scarica il tuo SIDIP da unica. Questo per i candidati esterni e dunque la differenza fondamentalmente è che si devono fare un po' tutto loro perché PCTO e così via, mentre PCTO lo fa per quegli frequentanti la segreteria, qui bene o male si deve fare un po' tutto lui. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci. Grazie. Grazie.